Ciao a tutti, sono White Rose e oggi riprendo il discorso legato al mio ultimo video riguardo il mondo interiore. Vi lascio il link in descrizione. Nell'ultimo video avevo parlato delle porte chiuse che si trovano nel nostro mondo interiore e che non riusciamo ad aprire perché abbiamo paura di entrare in contatto con qualcosa di noi che non ci piace, che non vogliamo vedere. Il nostro maestro interiore può accompagnarci di dove si trova il nostro coraggio, la nostra forza personale, il nostro desiderio di cambiamento ed ecco che ad un certo punto siamo pronti ad afferrare quelle chiavi ed aprire quelle porte e tutto ciò che troveremo al di là di queste porte lo affronteremo ancora una volta insieme al nostro maestro interiore. La scrittura ispirata è una pratica alla quale si dedicano molte persone proprio per entrare in contatto con il nostro sé superiore, il nostro maestro interiore. A differenza della scrittura automatica che potrebbe per i non esperti comportare alcune complicazioni e per questo ve la sconsiglio, praticare la scrittura ispirata non comporta rischi poiché non state contattando gli spiriti ma solo la parte più saggia di voi. È una connessione con voi stessi e quindi non avete nulla di cui temere. Cercate di scegliere con cura il momento giusto a cui dedicarvi alla scrittura ispirata. Se siete nervosi, irritati, tristi o stanchi rimandate ad un momento in cui vi sentite tranquilli e rilassati. Svuotate la mente da tutti i pensieri e prendete carta e penna o magari un diario che userete di volta in volta. Se non avete mai praticato la scrittura ispirata e avete qualche difficoltà vi suggerisco uno dei tanti modi in cui potete iniziare. Scrivete in alto il vostro nome e poi scrivete accanto una parola o una frase che esprime qualcosa di bello di voi. Vi faccio un esempio. Se io fossi al vostro posto scriverei il mio nome e poi scriverei accanto senso dell'umorismo dato che ne sono ben fornita e riesco sempre a fare sorridere in un modo o nell'altro chi mi sta intorno. Dunque se dovessi io iniziare il contatto con il mio maestro interiore proprio per la prima volta scriverei mi chiamo, metto il mio nome e in me c'è uno spiccato senso dell'umorismo che mi aiuta a gestire alcune situazioni eccetera eccetera e continuerei a scrivere. Ecco l'approccio è molto semplice ma se rimanete concentrati, focalizzati, questo contatto si farà man mano sempre più profondo. È importante non fermarsi, non rileggere, non giudicare ma semplicemente bisogna far fluire le parole. Man mano che scrivete emergerà la saggezza della vostra anima attraverso proprio la profondità delle vostre parole. Sentirete delle energie particolari scorrere in voi e quando rileggerete ciò che avete scritto vi sorprenderete parecchio. Non commettete però l'errore di mettere tutto in discussione altrimenti non riuscirete ad instaurare un dialogo duraturo con il vostro maestro interiore. Abbiate fiducia in voi, provate e riprovate, fate pratica. Se avete bisogno di qualche consiglio o se volete condividere la vostra esperienza con me potete contattarmi in privato. Nel mio blog troverete tutti i miei contatti e vi lascio comunque tutti i link in descrizione. Per oggi è tutto, a presto!